Buon pomeriggio e benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta che essendo oggi giovedì si occupa di questioni che hanno a che fare con la vita sociale della città. Nella seconda parte saranno con noi i vertici della comunità di San Martino al campo nella prima parte e invece con noi il presidente del San Giacomo Ruggero Poli che ringrazio per essere un po' che non ci vedevamo. Certo, certo, certo. Ma la vedo sempre in forma. Ma insomma la forma non è così ma insomma dai mi do da fare ancora. Corre ancora, gioco sempre, gioco tennis tre volte per settimana, faccio ancora. Tennis è un momento bellissimo anche a livello insomma. C'è un problema che tutti vorrebbero imitare Sinner, no? E non sanno che non è proprio così. Insomma lì bisogna godersi il momento però copiarlo non è possibile. Ma adesso per l'amor di Dio logicamente qui si ragiona soltanto per quello che riguarda me, per quanto si legge eccetera. C'era una, credo un'intervista con Panatta e un'altra anche con Bertolucci che dicevano una cosa fondamentale cioè lasciamolo in pace nel senso purtroppo la stampa usa questo tipo di cose, seguirlo di continuo eccetera. Ma ha visto e ha fatto le foto con la squadra di calcio, no? Perciò è ricercato e per fortuna speriamo che tenga questa mentalità ancora di estraniarsi un po' dall'evento, no? Una delle mosse più belle è stato non andare a Sanremo. Ma sì, è stata una mossa fatta bene. Ma ecco quanto fa bene al tennis italiano anche? Cioè voglio dire più che altro per quanto concerne le nuove generazioni? Avere un campione? Tutto. Partiamo una volta a Tomba. Come no? Telli. Trascinavano tutti, volevano fare scivi, volevano... Serve un mito, no? Diciamolo mito, no? Per seguire poi le orme. Dopo uno riesce, uno riesce, però serve, serve molto. E questa, chiamiamola, perché a me sta simpatico, ma insomma questa finta diatriba poi che è stata costruita su Sinner Pietrangeli, Pietrangeli che dice non ha vinto quanto ho vinto io, erano anche altri tempi, quindi però... Ma diciamo che... ma credo che sia detto un po' per lo spirito del momento però senza nessuna cattiveria, senza nessun fine, no? Non credo proprio. Anche perché è stravolto il mondo del tennis, le impugnature diverse, le racchette diverse, le corde diverse, le palle diverse. C'è tutto un altro mondo, no? Le impugnature non sono più quelle di una volta a questi livelli. Ma questo è visibile anche, voglio dire, anche a chi non lo pratica. Nel senso, basta vedere, c'è questo bellissimo documentario che si chiama La Squadra, che ripercorre poi la storia della squadra che vinse la Coppa Davis in Cile nel 76. Si vede che è un gioco completamente diverso, insomma. Eh, tutto, tutto. Anche la potenza che si fa, ma perché? Perché sono cambiate le corde, perché è cambiata l'impugnatura, perché uno ha un'altra impostazione. Non so se lei ha sentito, ad esempio, quando fanno il servizio, dicono non aprire, non aprire più, accreditci la palla con la forza, cioè devi anticipare proprio tu. Una volta neanche si sognava. Poi la scuola, una volta, io, si faceva sei mesi di dritto, sei mesi di rovescio, poi cominciavi il servizio, volete, tutte le altre cose. Perciò è cambiato il mondo, ma come tutto. Come dappertutto. Sì, penso che anche questo valga anche per il carico. Anche per noi, anche per la corsa. Anche per la corsa. Ma sì, adesso vedi che sono quelle scarpe là che aiutano, che poi sono regolari, non regolari, eccetera, è cambiato. Io mi ricordo che ero negli Stati Uniti quando, parlo di 30 anni, 30, 33 anni fa, uscivano per la prima volta le scarpe da corsa più leggere, come dire, fatte di un tessuto meno pesante, eccetera. Mi ricordo che un mio amico mi disse, compramele, compramele perché voglio averle per primo, eccetera. Ma sa, ad esempio ci sono delle marche, che non facciamo il nome, che sono in negozio, che hanno un nome, però dico, ma come, questa è una lira, dico, per capirsi, è una 10, come è possibile? Ma sono quelle con il gel, con l'aria, con le suole, così, sono quelle che adesso devono vedere, perché danno la spinta di più. Cambiato il mondo. Cambiato il mondo. Ma è giusto così, stiamo avanti. Io sono uno di quelli che è un po' così, però mi aggiorno anche nel tennis, no? Perché nel piccolo, nel piccolo mio, però cerco di aggiornarmi anche lì, dai. Ma insomma, le fa solo bene, ecco, per dire le realtà. Ma sì, ma ho la soddisfazione, perché la gente apprezza, no? Una ragazza ha fatto due anni, adesso sta facendo l'istruttrice, ha fatto l'esame, ne ho preparato l'altesi, scritta. Insomma, queste piccole soddisfazioni per uno giovane come me sono importanti. Bene, veniamo alla gara. Parliamo della gara del 7 di aprile, quindi c'è un po' di tempo, ora sono tre settimane, faccio bene i calcoli, due o tre settimane. Sì, però stiamo già lavorando intensamente, perché faremo un percorso nuovo, saremo Sgonico, la partenza sarà dal centro commerciale su a Prosecco, a Lanza. Da lì partiremo e lì arriveremo, no? E faremo tutto, stazioni Prosecco, dietro Sgonico, giriamo per il bosco, un po' bosco, un po' strada, ma facciamo lì una novità, perché a me piace fare delle novità con la società. Che percorso è? Perché io correvo dalle parti di Basovizza e conosco meglio. È tutta un'altra cosa, sì. Questa è nuova, perché si passa un po' la zona commerciale anche dentro, no? Ho capito, sì. Sì, dove sono tutti i magazzini, dove c'è il camion, ma noi facciamo più bosco, però siamo già andati a vedere il percorso, poi c'è Maurizio Cudicio che segue il percorso. Io sono andato due volte, adesso tornerò perché darò una mano, ma è un percorso tutto nuovo, no? Ma anche perché una volta che lei si ricorderà, a Centro Lanza si faceva Pappi Sport. Come no, sì. Ecco, si andava sull'asfalto però, fin su a Seles, si faceva tutto l'asfalto, andata e ritorno. Però oggi giorno è meglio non intracciare tanto se si può, no? Poi diciamo la verità, anche correre sull'asfalto è la cosa... Però, 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 sono problemi per le ginocchia e per tutto, no? L'asfalto, però insomma è più pulito, più... Non pulito nel senso però, poi è meglio, senza problemi, no? Perché, ad esempio, parlo di me, della nostra categoria, quando si corre un try o una cosa... C'è un pericolo, c'è niente da fare, non si ha più i riflessi. Poi, bisogna essere onesti, non abbiamo l'elasticità che ha lei o che ha un giovane, no? Beh, insomma, ho le figlie così, dai, non ne parliamo neanche, non ne parliamo neanche. Ringrazio per la... No, ma ecco, per esempio, poi dopo andiamo anche a... Sui dettagli qua. Io ricordo che uno dei luoghi dove ho corso peggio, ho corso una sola volta, ho detto mai più, Barcola dopo il rifacimento delle... Diciamo, della pavimentazione, quindi parlo di... Eh, sarà un 15... Sì, 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 un 15 anni fa più o meno, io ci ho corso una sola volta, assolutamente mai più, ho fatto una fatica enorme. Sul sterato? Eh no, no, proprio sul... Sul porfido. Sul porfido. Ma il porfido è sconsigliato a tutti. Ma io vedo tanti che corrono con... Eh sì, sì, ma corrono una volta, due volte. Se fai allenamenti sul porfido, diventa un problema. Difatti, se lei guarda Barcola, tutti noi cerchiamo di correre l'altro dove è l'asfalto, perché già cutisce il colpo, no? Perché, diciamola tutta, quando si corre, che corri, c'è un piccolo trauma ogni volta, no? Sicuro. Perché si batte, perché il ginocchio, perché le caviglie, perché la schiena... Io le caviglie, mi ricordo perfettamente che risentii quella circostanza sulle caviglie e poi ho detto mai più su... Il porfido è micidiale, è micidiale. Però tanti appunto continuano, imperterriti, forse corrono sul bordo, sì, e dopo quando tornano fanno la pinetta, che c'è quel piccolo sentiero lì. Forse è vero. Però, sa, se uno va a correre una volta, due, una volta ogni tanto, può correre anche sui cosi, dicono, per assurdo. Questo sì. Però uno che vuole allenarsi, insomma, è così. Allora, noi facciamo questa gara, ed è la prima del trofeo quest'anno, e sono otto chilometri, e sono... Ma sono puliti, sono puliti, c'è solo un... No, 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 c'è solo un tratto, posso dire, di due, trecento metri, ci sono un po' di pietre lì, ma adesso noi andremo a tagliare, se ci sono delle rami, se l'erba, insomma, cerchiamo di dare le condizioni migliori... Salita c'è? No. Ah, quindi in piano, sì. Niente, 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 tutto. No, è una... dico agli atleti che lo faranno, sarà una bella corsa... Non è quindi strutturato come percorso? Cioè, lo si pratica, cioè, è un sentiero che si pratica già, diciamo? No, sono pochissimi, in questi giorni si è andati su, abbiamo trovato solo due ragazzi di là, che fanno la... è bellissimo, però, neanche io conoscerò, per dire... Quindi sarà bello anche, appunto, per... Sì, la foiba, conosciamo tutti, quello no, perché si faceva la cassolina lì alla foiba, ecco. E quella aveva dei... Ma quella sì, quella sì, perché si andava su per sentire, poi si andava giù alla cava, si tornava su, insomma... Quella la ricordo con una certa... così, insomma. Però, insomma, dai, comunque questo è bello pulito, poi si arriva lì a Centro Lanza, e devo ringraziare questi qua, perché io ho la fortuna di trovare sempre chi mi dà una mano, no? Centro Lanza mi ha aperto le porte, per poter fare... Perché il problema per noi, quando organizziamo una gara, è trovare la location dove mettersi, perché se piove, perché se c'è... Ci sono problemi, la corrente per il computer, per i microchip, tutte queste cose lì ci hanno aperto le porte, sono stati veramente... Quindi lì è il punto di partenza, diceva. È d'arrivo. È anche il punto... È anche il punto d'arrivo. che io non ho mai contattato loro, sono stati loro a chiamarmi e offrirmi una collaborazione. Perciò è stato, per me, un successo. Cioè, poi, a Roma Caffè, è stata un'altra cosa che noi non si pensava mai, no? E... Polaiaz. Gentilissimo, vi do una mano se avete bisogno. Cioè, abbiamo trovato proprio il modo... Poi io, non so, ho ancora la fortuna di trovare gente che collabora, perché è difficile oggigiorno. Oggigiorno trovare gente che ti aiuta, collaboratori, sponsor, diciamoli così. Ecco, la parola è difficilissima. Ma dopo la pandemia questo... Ma va a scemare sempre più, perché le dite... Non abbiamo dite qua che puntano nel reclamizzare. Allora, se lei fa una maratona, trova anche lo sponsor, perché dice maratona, va alla televisione, va tutto, no? Ma a noi chi viene a vedersi? Abbiamo fatto l'altro giorno la conferenza stampa, che siete venuti voi. Se no, come si fa? Dove reclamizzi? Dove reclamizzi? Sì, sì. O dai evidenza? Ce ne sono anche meno, oggettivamente, no? Rispetto appunto alla carsolina, non si fa più. No, ma adesso faranno... Cioè, la mua allunga, faranno altre, però... Non ci sono quelle, come posso dire, più domace, non so se il termine è corretto, ma quelle più... Proprio veramente per amatori, amatori. Eh, non ne fanno più, non si può più. Anche perché lei non può venire a correre così. Oggi ho un certificato medico e ci sono, anche poi, la situazione è che i costi ci sono. Ci sono, perché lei va a fare la visita medica un po' più sostenuta, sono 120, la visita, l'iscrizione, il pettorale. Una famiglia, sono in due o tre che corrono, oggi non è più come una volta. Comunque, noi abbiamo fatto di tutto, lì abbiamo trovato, e poi io quest'anno aggiungerò nella manifestazione un gruppo di bambini autistici. Ah! Sì, allora adesso sono... l'associazione è centro di sé. Hanno un gruppo... Sono questi? Aspetti che io ho... Centro di sé, non credo sia centro di sé questo. No, io ho il braccialetto blu. No, 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 no. Sì, ma allora sa che si illuminava i monumenti, no? Sì, 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 forse... Quello era di Down, mi pare, eh? No, 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 io ho uno per gli autistici, ma è... Non mi ricordo. No, è il come noi. Beh, insomma... Ecco, questo... Allora, lei si immagina che a me dicono, possiamo fare con... Ma pensa che io dico di no? No, è bellissima anche come... Ma no, ma poi se non facciamo questo per questi ragazzi, no? E allora adesso... Io ho voluto farle addirittura il pettorale, perché si sentono... Deve sentirsi come gli altri. Pettorale, le magliette, tutto, la medaglia. Facciamo tutto perché è giusto fare. E allora sarà una manifestazione anche per loro. Però noi, io devo dire la verità, ho questi sponsor che mi aiutano. Io non voglio elencarli perché sono un 3-4 che però sono importanti. Può dirlo, tanto. Lo può dire tranquillamente, insomma. Non so, ad esempio, Rosso, la farmacia di Aquilinia, insomma... Vai, gente che ci dà una mano... Perché, dottore, il problema è che non è che chiediamo 10.000, 5.000, 2.000... Ci danno quel giusto che a noi basta, perché noi non dobbiamo fare una speculazione su... Quando abbiamo... Diciamo, vediamo da questo punto di vista, perché magari, mettiamola così, quando si sente parlare di queste gare, eccetera, uno pensa che, vabbè, chi li organizza trova il tracciato, trova il percorso, disloca lungo il percorso, disloca la sorveglianza e queste cose. Quali sono, invece, tutte le cose che sono necessarie per organizzare una gara e che noi non vediamo? Ad esempio, ieri sera io mi ha chiamato il sindaco di Sgonico, perché facciamo questo, perché Trieste è solo all'entrata del centro, poi passa sotto Sgonico. Abbiamo fatto la domanda, e per i vigili, perché dobbiamo fare la domanda, i carabinieri, il forestale, le comunelle, cioè da fare tutto, il percorso, attenzione, bisogna fare un'assicurazione, bisogna fare un'assicurazione, a metà percorso bisogna fare un ristoro che ti diano la possibilità di mettere il tavolo con due minerali, qualcosa, gli uomini che le prendono sui bichetti, è tutto un lavoro dietro. Il ristoro che noi facciamo, i San Giacomo fanno un ristoro, che noi facciamo dalle pizze, la frutta, per i bambini autistici, io ho fatto una cosa diversa per loro, voglio che sia fatto per loro, sempre lì vicino, perché se no si sentono staccati dagli altri, però deve essere uno che gli altri non vadano lì, e oggi ho parlato anche con il Bonbon, che mi collabora un po', ecco Stefano del Bonbon, perciò c'è tutta questa cosa, ma sono cifre, per noi sono grandi, però non chiediamo 5.000, allora io le racconto che sto vedendo di organizzare, lei non so se si ricorda la staffetta Roma-Trieste, che abbiamo fatto 20 anni fa, io ero uno di quelli che correva, che abbiamo fatto in tre giorni Roma-Trieste, per il 26 di ottobre, ecco, uno mi ha chiesto, un personaggio di Trieste, mi dice, ma rifarla da Roma, come abbiamo fatto, perché io ho qua la documentazione, se vuole filmarla, sei una cosa stupenda in borsa, come fai, siamo partiti con 10 camper noi da qua, 7 camper, i visi di ogni comune, ci scortavano i visi del posto, anche di notte, i visi di Trieste sono venuti fino a Roma. E diventa difficile adesso. Allora ho detto, va, per fare una cosa del genere, non dirmi, guarda, io ti dico, il minimo sono 50.000, perché prendi 7 camper, le persone, la notte, il mangiare per strada, perché noi ci siamo arrangiati a far da mangiare sui camper, però, metti in conto tutto, una divisa, perché devi dare una tutta a qualcosa, queste sono le cifre, orca, 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 cosa orca, non è orca, questo è, invece. E poi anche immagino che subentri anche una burocrazia che diventa sempre più sostenibile. Ma io non le faccio neanche vedere tutte le carte che ci occorrono, ieri sera con il sindaco Sgonico, dopo aver fatto la domanda mancava una cosa, bisogna aggiungere un'altra, e poi, ad esempio, le marche da bollo ci sono, non ci sono, perché adesso è cambiata la legge, sai che oggi non può prendere uno che allena i bambini se non è in regola? Siamo messi proprio al capio noi, piccole società, non so quanto resistono, perché bisogna cambiare lo statuto, c'è tutto un lavoro dietro, no? Cioè io stamattina ai 5 ero già su, perché mi vedo ai 5 e faccio gli appunti di quello che mi serve, e 7 ero su a centro lanza, preparare i pacchi, cioè che mi facciano le cose, vengo giù, vado da quell'altro le medaglie, le coppe, cioè è tutto un lavoro. I ragazzi, Maurizio Cudicio, che è andato a vedere il percorso con Antonio là, sono andati ormai tre volte a vedere, perché dove facciamo ristoro? Perché bisogna fare un ristoro a metà, per legge, no? E l'assicurazione in più, perché quella è la fida, cosa non ti basta, uno si fa male, come fai? Tra l'altro, ecco, quando poi si individua, come in questo caso, un percorso nuovo, voglio dire, cambia qualche cosa dal punto di vista organizzativo rispetto ad un percorso noto? Eh, cambia, cioè, se noto lo fai, però le domande sono quelle, non ci piove, non ci piove. Non è che rimangono, diciamo così, quelle vecchie, magari si può aggiornare. No, 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 perché cambia sempre qualcosa, perciò bisogna rifare tutto, bisogna rifare tutto, ed è una procedura che non si finisce più, si finisce più. Quanto tempo prima bisogna, mettiamo? Allora, i tempi tecnici sono 31 giorni prima della gara, lavorativi, perché se fai in comune al 27esimo giorno non sei più dentro nelle autorizzazioni. Poi bisogna chiedere il patrocinio. Lei vede sul volantino, c'è il comune, ci sono cose, sotto in fondo, però bisogna chiedere il patrocinio, non per chiedere contributi e roba in fondo, solo per poter mettere il reclamo su o lì, eh? Sì, sì, quindi... Se non hai la... bisogna mandare la domanda, che aspettare la risposta, poi la conferma. Quindi per una manifestazione come questa, che si tiene il 7 di aprile, avete cominciato a lavorare quando? Già a gennaio. Ma stiamo lavorando da sempre, perché bisogna continuare a fare, perché se lei pensa che noi, quel giorno della gara, solo per le categorie, dobbiamo preparare 70 premi. 70 premi più, un momento, più sono i primi classificati, i primi tre uomini, i primi tre donne, poi i più giovani, bisogna fare... E bisogna fare tutte queste cose. Ad esempio noi facciamo, perché abbiamo visto che fare la medaglia, la gente... la medaglia... Invece facciamo un pacco gara. Ah, ho capito. Allora, nel pacco gara mettiamo dentro un vaso di marmellata, un pacco di biscotti, una minerale, insomma un po' così, riempiamo che uno va a casa almeno con qualcosa. Anche perché noi quest'anno abbiamo fatto la manifestazione senza riconoscimento. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando arrivi al traguardo ti aspetta qualcosa. Non so, un berettin per dire, un scaldacollo, non so, indifferente. Qualcosa devi dare. Noi abbiamo scelto di ridurre il prezzo senza riconoscimento. Premieremo tutte le categorie, da 20 fino ai 80, tutte. Però non facciamo un riconoscimento. Ecco, anche lì, poi bisogna iscriversi alla FIDAL. Lei sa quanto costa in strada fare una gara? Quanto è? Un 500 euro. Sì, sì, sì. E dopo se noi abbiamo 300 atleti, come passano il traguardo? Dobbiamo dare un euro per i ragazzi che fanno attività agonistica. Perciò... Ah, ho capito. Quest'anno noi, non riconoscimento, sa quanto pagano per fare la gara? 10 euro. Allora, lei pensi, con tutto quello che deve fare, andiamo sempre un po' storti, se non abbiamo chi ci aiuta. Appunto. Per quello dico, per noi, questi sponsor diventano importanti. Diamo un attimo le coordinate per quanto riguarda, appunto, entro quando bisogna iscriversi, come funziona? No, allora, funziona così, il trofeo funziona così. Cioè, ogni società ha la possibilità di iscrivere i soci. Un socio vuole iscriversi alla gara, allora dà nome e cognome alla sua società, la sua società, a fine mese, qua, prima della gara, manda i nominativi, ci saranno i giudici arabi, c'è il giudice poi, alla fine poi sono già iscritti. Se invece viene qualcuno, io ho messo qua che non si potrebbe fare, ma dopo se viene uno l'ultimo momento e vuole iscriversi, lo facciamo, di fatti abbiamo pensato di mettere il tavolo con due persone che sappiano per prendere l'iscrizione nel momento, però dopo le società, alla fine sappiamo quanti ne ha messo una società, quanti ne ha messo l'altra, alla fine si fa la somma, però con 10 euro, e con 10 euro devi soperire a tutto. Allora dico, quel giorno noi daremo caffè a gratis per tutti. Uno viene là, beve caffè e non paga, per dirvelo, ma perché? Perché abbiamo trovato chi ce lo dà, perché se no potremmo noi fare un altro, no. Sì, 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 no, è tutto... Deve essere tutto così. Bisogna essere entro una certa... Quando? A che ora? A 9 e mezza partenza. Ok. A 9 e mezza, i bambini partiranno dopo, gli autistici, in modo che non si incontrino durante il percorso, e a 9 e mezza la partenza. Quindi bisogna essere su perché ora? No, uno può arrivare anche all'ultimo, perché sei già iscritto a... Ah, beh, sì, sì, giusto. Ha già il suo numero e il suo pettorale, no? Sì, sì, sì. Perciò lui va tranquillo, è iscritto, parte a 9 e mezza, può arrivare a 9 e venti. Sì, 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 non è necessario... Non è solo il problema del parcheggio, poi, no? Perché arrivi sull'ultimo... Beh, lì c'è ampia possibilità, però, insomma, sì, bisogna sempre... Però, 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 se sono... Io mi auguro che come prima gara siano due, cinquanta, trecento di loro che corrono. Perché diciamo che questa è la prima gara... Prima del ventiduesimo edizione. Del trofeo Trieste. Trieste. E se lei pensa che il San Giacomo è la settantanovesima edizione, però... Una storia. Tanto è strano, magari, no? Il giro di San Giacomo fatto a Sgonico, però, insomma, è anche inevitabile. Ma come si fa? Come si fa? Lei pensi, una volta si partiva dalla piazza San Giacomo, giù per via San Marco e su... Come fai oggi? Ti uccidono. Sì, sì. Ma fino a nemmeno tanto tempo fa. Eh, no, no, sì, sì, beh, ma adesso è venuto quasi... Cioè, noi faremo il prossimo anno 80 anni di storia, no? Faremo, spero di fare una mostra in piazza... L'abbiamo fatto per i 50 anni. Quest'anno, il prossimo anno, la faremo per gli 80. Però, dopo vorremmo farlo a San Giacomo, un giro. Magari in breve, però, per riconoscere perché... Fate la 24 per un'ora in piazza. Ma si ricorda? In piazza Unità l'abbiamo fatta. Io l'ho fatta quella, eh? Io mi ricordo, pensi che per colpa di Maurizio De Ponte, io non sono riuscito ad andare sopra i 15 chilometri. Ho fatto 14,7 e 70. Ma un po' è importante, vuoi bere i chilometri. Perché a un certo punto mi ha... si vede che forse ero un po'... Mi dicevo, vuoi del tè? Eh, oh sì, va bene. E io mi sono fermato per bere il tè, da perfetto inglese, no? Perché... E mi avevo sulla coscienza quel momento che avrei potuto correre. Sono quegli attimi, no? Sì, i famosi attimi. Mi è fatto vero che poi, Tuglio Beltrame, quando poi avevamo finito, mi dicevo, sei stato male ad un certo periodo. Ho detto, no, ma visto che ti sei fermato, ho detto, no, ma per bere il tè, ma no, dovevi? Sono correndo. E mi rimane sempre questa... Non c'è quel dubbio adesso. Però era quella, era una bella cosa. Eh, però, bene, anche lì non abbiamo più potuto farla. Abbiamo fatto l'ultima, che l'ho fatta anch'io, a Campocolonia. Eh, ma non è tutto un altro. Ma come si fa? Chi vuol correre di nuoto e nessuno. Chi organizza deve stare lì con due o tre persone per i pettorali, per... Ormai sono cambiati i tempi. Sono cambiati i tempi. E tutto deve correre tutto velocemente. Mi dispiace che noi facciamo piccolo, però una volta volevo che una partenza, un Telequattro là, vedere una bella partenza... Ma so che è difficile. So, 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 ma non voglio dire... Eh, ma chissà che magari... Ma un giorno che a voi... Che non si possa combinare qualche cosa, insomma. Allora, siamo in chiusura, sì. Grazie a Ruggero Poli per essere stato con noi. Grazie a voi. Buon lavoro, mi raccomando. E come si dice, buon tennis, buone racchettate, come... Sì, buone racchettate. Buone racchettate, insomma. Allora, grazie a Telequattro per dare questa ospitalità. Grazie. Sempre piacevole chiacchierare con lei. Grazie. Pubblicità, poi cambiamo argomento. Bene. Eccoci pronti, si fa per dire, nel senso che... Vabbè, per la seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta siamo in compagnia della comunità di San Martino al campo. Ci sono la Presidente Elena Klon e poi c'è Miriam Kornfein che è la responsabile della formazione volontariato e cultura. È corretto più o meno. Allora, intanto grazie per essere entrambe ritornate nei nostri studi. Cominciamo subito con la domanda più facile, per dire la verità. E cioè, che momento è per la comunità? È un momento in cui, immagino che voi siete sempre alle prese con nuovi progetti, eccetera. Però è interessante anche vedere come funziona l'anno di una comunità. Cioè funziona ad anno solare? Oppure, chissà perché, io ho sempre l'idea che i lavori di alcune realtà corrispondano con gli anni scolastici o con le stagioni di teatro. In questo caso capirei di più l'errore. Voi come vi muovete? Vi muovete sull'anno? Ma noi ci muoviamo sull'anno, ogni giorno, senza nessuna scadenza, se non quelle che corrispondono alla realizzazione di progetti che hanno un inizio e una fine. Però non corrispondono a periodi determinati. L'unico progetto che va a periodo così è il progetto della nostra scuola di seconda opportunità, dello SMAC, che inizia con l'inizio dell'anno scolastico e finisce con la fine dell'anno scolastico. No, ma probabilmente è perché occupandomi io più di teatro ho questa fissazione e quindi è così. Per il resto le persone fragili, le fragilità, non hanno stagioni e sono sempre pronte ad essere accolte e accompagnate nei loro percorsi, per cui i programmi sono quotidiani. Da quanti anni esiste la comunità? Siamo vecchiotti perché tutta la storia della comunità è iniziata nel 1970 e abbiamo festeggiato. 54 anni. 54 anni, sì, sì, sì. Naturalmente in questi 54 anni il mondo è cambiato, tante cose sono cambiate, anche la comunità di San Martino al Campo è cambiata. E quindi per rispondere alla tua domanda, com'è adesso la comunità di San Martino al Campo, è una fase già da qualche anno di trasformazione, di aggiornamento, di attenzione a bisogni nuovi e quindi anche di tentativo di rispondere a questi bisogni nuovi con dei progetti diversi, sempre nello spirito di quelle che sono le tre parole della comunità di San Martino al Campo, l'ascolto, l'accoglienza e la condivisione, ma anche costruiti, pensati, magari comparativi, parametri con riferimenti aggiornati all'oggi. C'è stato un periodo in cui, come posso dire, la comunità ha dovuto, non voglio dire di colpo, ma quando il cambiamento è stato, mettiamola così, più evidente, perché immagino che la vita di una realtà come la vostra proceda su due binari, quello del quotidiano e di quello che accade in città e anche quello che accade eventualmente nel resto del mondo e che poi si riverbera sulla città. Immagino che fino a un certo punto tutte le cose sono procedute parallelamente, poi deve esserci stato uno scarto probabilmente. Ma il... Sì, naturalmente si risente, non è neanche la parola giusta dire... Sì, sui termini poi si può sempre... Sì, è un cambiamento costante perché vivere immersi in quella che è la realtà sociale, civile della città porta a cambiare di conseguenza perché non... grandi cambiamenti o grandi scossoni, come tutti, li abbiamo vissuti sicuramente ultimamente con il Covid che ha sicuramente alterato gli equilibri e il modus operandi della comunità. Però e poi da quello si è tornati fuori. Poi naturalmente la comunità risente anche di tutto quello che succede nel mondo, c'è l'atmosfera che c'è nel mondo, per cui un cambiamento da dire, un cambiamento netto... Non c'è... Non è rivettuto. Direi di no, direi di no. C'è stata un po' una fatica nel riprendere il lavoro, le attività dopo il Covid e anche rispetto al riavvio dell'attività di volontariato da parte dei nostri volontari è che non è stato immediato, non è stato facilissimo, però va detto che dopo il Covid sono arrivati anche tanti nuovi volontari, forse anche provocati un po' dalla situazione che si era creata dal Covid o dal fatto che magari nel periodo della chiusura si erano messi a disposizione alcuni per portare per esempio i passi agli anziani e dopo magari hanno desiderato continuare in un'associazione, insomma, continuare il loro servizio. Qui quello è uno spartiacco in ogni caso? È stato un po' uno spartiacco. È stato un momento di cambio. Io non riesco ancora a capire, a costo di ripetermi, se è corretto averlo già storicizzato come momento perché non lo so, capisco la necessità anche psicologica di lasciarcelo alle spalle però è vero che in fin dei conti stiamo parlando di qualcosa che è accaduto solo 4 anni fa non decenni fa, invece sembra che... Ma questo è argomento probabilmente per i sociologi o chissà per chi. La nostra impressione è comunque che chi ha pagato di più forse sono stati i giovani No, no, questo è... Stiamo cercando di attivare qualcosa di importante. Questo credo sia fondamentale. Sì, agganciandomi ai giovani sicuramente un progetto che stiamo portando, stiamo aprendo è proprio un tornare su quella che è l'origine della comunità e quanto ha fatto Don Mario all'inizio del suo tracciato, del suo percorso con la comunità quindi di rivolgersi ai giovani perché nel nostro operare quotidiano appunto zona via dell'Istria dove è situata la nostra scuola SMAC e confrontandoci con altre realtà che operano sullo stesso territorio quali l'Oratorio Salesiano, l'OMA e il CHOFS, la scuola professionale ci siamo resi conto che tanti giovani hanno bisogno di essere accolti di essere accompagnati, di trovare uno spazio dove potersi esprimere per cui in collaborazione appunto con questi due enti e supportati in questo caso dal down for funding di banca intesa stiamo raccogliendo i fondi per aprire appunto questo centro di aggregazione per i giovani in modo che abbiano uno spazio accudito cioè che trovino delle persone che stiano loro accanto che facciano fare delle attività che li impegnino nel loro tempo con le loro modalità un luogo dove i giovani possano esprimersi è assolutamente necessario perché si percepisce la loro necessità poi delle volte magari passando davanti a certi luoghi abbandonati della città ti verrebbe voglia dire ma perché non fanno qualche cosa di questo edificio però qui ci porterebbe a... proprio sì, proprio vederli e volendo bene i giovani insomma sia come comunità e come anche le altre realtà appunto quali il Rottorio Salesiano eccetera l'attenzione ai giovani ci è abbastanza consuna è abbastanza vicina e siamo veramente desiderosi di cominciarlo questo progetto invece Miriam chiamo Miriam Confer perché ci conosciamo da scuola quindi insomma questo è un luogo dove viene bene anche dare del tuo agli ospiti per... sennò vengono quelle cose forzate e per certi aspetti sì, ridicole alla fine che cosa significa formare un volontario? perché l'idea è uno viene là si mette a disposizione ed è fatta non credo sia così semplice è una cosa bellissima formare i volontari innanzitutto perché quando le persone si avvicinano alla comunità di San Martino a campo arrivano già con una disponibilità che è il prerequisito per mettersi a svolgere un'attività di volontariato avere una certa disponibilità di tempo e aver voglia di rendersi utili in qualche modo formare i volontari è un compito delicato molto importante perché non è sufficiente neanche specialmente di questi tempi la buona volontà mi metto a disposizione e basta quindi la formazione riguarda intanto la conoscenza della comunità dei suoi servizi noi quando facciamo i corsi di corsi base per nuovi volontari diciamo non è un corso di formazione vero e proprio ma è un percorso di conoscenza reciproca cioè chiediamo alle persone di conoscerci conoscere il nostro modo di lavorare e i servizi che offriamo alla cittadinanza ma anche cerchiamo di conoscere noi le persone che poi verranno a svolgere l'attività di volontariato si parla di acquisizione di competenze non si chiede ai volontari di portare una professionalità educativa oppure di essere psicologi oppure ecco delle competenze tecniche specifiche però di entrare in una realtà fatta anche di professionisti prevalentemente educatori naturalmente sono i dipendenti della comunità di San Martino al campo di affiancarli e anche sul campo di apprendere una modalità di approccio con le persone che vivono il bisogno che vivono la difficoltà che hanno numerosi problemi che sia appunto un approccio rispettoso un approccio appunto orientato all'ascolto alla condivisione ma anche che appunto porta delle risposte o cerca insieme alla persona delle risposte e qui ci vogliono delle competenze per cui è affascinante ecco accompagnare i volontari e vedere come man mano che entrano nelle nostre realtà anche chiedono di approfondire maggiormente i servizi che svolgono e anche le modalità di approccio con le persone più fragili può anche essere che qualcuno non ce la faccia qualche volontario nel senso che magari come posso dire teoricamente uno pensa di essere in grado anche di uso un termine che non è correttissimo nemmeno in questo caso sopportare certe realtà magari può essere che qualcuno poi messo come dire alla prova psicologicamente non regga o non è così beh allora ci sono dei fattori di protezione per esempio da noi non si lavora mai da soli si è sempre in una squadra e quindi si cerca poi quando magari si è avuto un incontro particolarmente impegnativo perché la sofferenza rischi di portartela a casa la sofferenza dell'altro parlarne col collega che sia volontario che sia operatore questo è un fattore di protezione poi c'è anche la povertà materiale la povertà materiale perché abbiamo i progetti nuovi ma ci sono anche i progetti tra virgolette tradizionali cioè gli aiuti economici a persone povere beh un progetto che noi portiamo avanti da tanti anni sostenuto dalla fondazione CR Trieste riguarda proprio un aiuto a povertà materiali e anche come dire svolgere dei colloqui con persone che ti portano delle problematiche veramente pesanti è impegnativo però appunto non lo si fa da soli questo progetto che anche quest'anno portiamo avanti che si intitola insieme per accogliere che ha risposto ad un bando appunto della fondazione che si intitola fragilità sociale anche questo mette i volontari a confronto ecco con queste situazioni però si lavora sempre insieme ho capito laddove ci sono anche delle io uso questo termine anche in questo caso è abusato dalla professione giornalistica però insomma il vostro è un osservatorio privilegiato virgolette insomma no? su determinate realtà che forse sono poco poco note poco poco conosciute no? tempo fa ero in una in una struttura di come si dice noi in una casa di riposo in una RSA in una RSA e avevo finito avevo dei giornali dei giornali con me e disse a una signora che era ricoverata di quali signora le lascio le lascio questi giornali e questa signora con grande ma non neanche questo di grande dice guardi io non so leggere e devo dire la verità che sono rimasto abbastanza scioccato perché noi diamo per diamo per scontato che certi problemi siano siano superati poi non so le ragioni per cui questa signora aveva aveva non so cioè voi le conoscete di più questa realtà non so se è un privilegio ecco non ma camminare accanto a persone fragili sicuramente ci fa essere non dico più avezi a a trovare poco poco speciale trovare qualcuno che non sa leggere o così però l'essere vicino a queste persone e camminarci accanto e dire facciamo un pezzo di strada noi usiamo tanto questo termine facciamo un pezzo di strada con le persone che accogliamo diventa un arricchire un arricchire la persona alla quale ci rivolgiamo è un arricchire anche anche noi stessi della loro della loro esistenza del loro del loro essere essere persone perché fondamentalmente dobbiamo ricordarci che un altro aspetto della della nostra comunità prima Miriam citava le parole della comunità e un altro aspetto è proprio la fiducia essere certi che in ogni persona che avviciniamo c'è una la capacità di se aiutata di di venire fuori dai propri problemi no dal così per cui la fiducia sta alla base anche del nostro proprio il bisticcio di parole ma sta alla base del nostro documento base cioè quello che sta sotto a tutte le nostre le nostre attività cioè la fiducia nella persona la fiducia nella capacità delle persone di di trovare di trovare il proprio di trovare il proprio riscatto di trovare la forza per andare avanti naturalmente è compito della comunità fare in modo che questo che questo avvenga insomma il concetto è bello questo camminare accanto non si camminare accanto l'obiettivo è favorire il più possibile l'inclusione delle persone perché c'è l'analfabetismo di cui accennavi tu c'è la difficoltà della lingua per quanto riguarda gli stranieri quelli che desiderano fermarsi nel nostro paese e quindi necessitano da subito di imparare la nostra lingua perché è il primo strumento di inclusione parlare la lingua del paese che ti ospita ma c'è anche un analfabetismo digitale non ne parliamo neanche ecco ma c'è un analfabetismo anche rispetto agli iter burocratici che bisogna seguire per ottenere anche degli aiuti di cui si ha diritto e questo è un altro modo di stare accanto alle persone perché tante volte sì le persone vengono a chiedere un aiuto economico allo sportello d'ascolto nella sede di via Gregorutti ma vengono anche a chiedere un aiuto per districarsi tra un ufficio e l'altro per ottenere dei documenti oppure degli aiuti appunto di cui hanno diritto e questa è un'altra fatica che si fa quotidianamente accanto a queste persone ecco immagino che sia qualcosa di spaventoso per dire e credo che peggiori sempre di più se non si capisce basta andare in farmacia per rendersene conto uno va con la ricetta elettronica e te la stampano mi pare una roba che solo nel nostro paese poi noi lavoriamo anche con il carcere per esempio quando le persone dopo un periodo di diciamo di libertà negata di chiusura ritornano diciamo nel mondo reale nella città trovano tanti cambiamenti anche da questo punto di vista ecco quindi vanno accompagnate per reinserirsi qual è Presidente l'equivoco maggiore che in cui la gente incappa quando pensa al volontariato ma uno può essere quello di di dire di cercare di cercare la propria gratificazione nel mettersi nel mettersi a servizio che in questo caso può diventare poi una frustrazione perché non sempre si è si è gratificati se se l'approccio è quello di di dire metto a disposizione sono in un'ottica di sussidiarietà metto a metto a disposizione quello che quello che sono e quello che sono capaci di fare nel tempo che ho a disposizione e mi assumo essere un volontario significa anche questo essere mi assumo la responsabilità di quella azione che compio come volontario e questa c'è questo può essere una diciamo una difficoltà tra il cercare la la propria gratificazione e trovare invece qual è lo spazio giusto per per inserirmi e affinché la mia la mia opera la mia sia sia efficace e sia veramente a favore delle persone perché insomma noi operiamo con persone ecco laddove invece chi volesse conoscere meglio la comunità e magari proporsi anche come come volontario quali sono i passi da fare noi abbiamo tutti i canali aperti nel senso c'è il sito io faccio questa domanda tanto so che lo faccio a tutti e poi ormai nel senso che appunto abbiamo un sito che è visitabile adesso si è appena concluso un breve corso base appunto per nuovi volontari ma c'è la sede di via Gregorutti che è aperta tutte le mattine via Gregorutti e Piazza Perugino praticamente la via piccolina che va dal capolinea del numero 5 del bus numero 5 a Viale Annunti sono pochissimi numeri lì è la sede di prima accoglienza la sede è anche amministrativa e c'è anche un centro studi un piccolo centro studi e quello è il primo contatto che le persone possono avere il numero di telefono è 040 77 4186 e lì si può lasciare un messaggio e dire di che cosa si ha bisogno o che cosa si vuole mettere a disposizione e si viene richiamati poi c'è il sito www.smartinocampo.it dove ci sono le notizie abbastanza aggiornate poi abbiamo un periodico che in cartaceo esce due volte due volte all'anno a giugno e a dicembre ma esiste e si chiama Il Punto ma esce anche online sempre lo si trova sul sito insomma ci sono tanti modi per avvicinare la comunità di San Martino al campo oppure si va a visitare una delle strutture di accoglienza magari avvisando perché il vedere tante volte aiuta a dire va bene io ci sto ci sto a far parte della squadra perché un altro rischio magari può essere quello di dire vado lì salvo il mondo e cambio tutto o si cerca la propria gratificazione o si vuole salvare il mondo noi cerchiamo di stare in una via di mezzo nel senso che la comunità è piacevole perché si vive nelle relazioni si vive con persone con cui si condividono tanti valori e anche la quotidianità parlo dei volontari e degli operatori ma certo non è solo gratificazione ma chi sono i volontari? in questo momento siamo 200 che è un numero cospicuo 200 volontari 40 40 dipendenti quindi operatori professionali tra operatori ed educatori e poi ancora qualche qualche altro volontario come servizio civile o dovremmo occuparci anche del servizio civile perché è qualche cosa di importante e ci stiamo dimenticando è qualcosa che ci preoccupa nel senso che è un'opportunità meravigliosa per i giovani però anche qui dopo il covid c'è stato un enorme un enorme calo di disponibilità e quindi di richieste dovremmo in qualche modo far capire che esiste ancora la possibilità e come si esiste la guigata dice beh non c'è più il servizio militare quello era l'alternativa e non c'è e non c'è più allora io ringrazio Elena Clon che è la presidente della comunità di San Martino al campo e Miriam Kornfein che è la responsabile del volontariato e della cultura anche se forse ho un po' non importa tipo Lina Bertmuller se non ci sta nei sottopancia buon lavoro davvero grazie grazie a voi per l'ospitalità noi ci vediamo domani domani è venerdì sì quindi la giornata dedicata ad argomenti che hanno a che fare con la cultura parleremo di Giuseppe Zigaim sono 100 anni della nascita e poi visiteremo durante Trieste d'Arte che è la costola prettamente artistica di Trieste in diretta visiteremo una mostra che si tiene alla sala a fini del magazzino 26 una mostra di sculture ci vediamo domani buon proseguimento di serata arrivederci ok a